Dottor Volpini, oggi parte la campagna vaccinale contro l'influenza nelle marche, 250.000 dosi circa disponibili per i marchigiani. Perché occorre vaccinarsi? Occorre vaccinarsi per l'influenza perché chiaramente il vaccino offre una grande protezione. Chiaramente non si devono vaccinare tutti ma chiaramente determinate categorie che sono gli anziani, alcune categorie a rischio, chi lavora appunto in servizi importanti perché chiaramente l'influenza seppur malattia banale in persone con particolari problematiche, anziani, cardiopatici, persone con bronchite cronica può avere come dire delle conseguenze importanti e magari portare anche a situazioni gravi. Quindi è importante, i vaccini sono sicuri dal punto di vista dell'utilizzo e quindi non si vede perché uno non debba farlo. Tra l'altro, l'anno scorso abbiamo avuto una situazione particolare, sono state proprio all'inizio della campagna vaccinatoria, sono emerse delle morti attribuite erroneamente al vaccino e quindi c'è stata un'interruzione che ha comportato notevoli ricoveri nelle medicine per complicanze da influenza e anche qualche morte attribuibile a questo. Quindi il vaccino deve essere fatto.